Sono attesi nelle prossime ore i risultati degli analisi per altri due filtri del campionatore ad alto flusso posizionato dall'ARPAC nei pressi dell'Abbaco Trans in seguito all'incendio di sabato notte. Si tratta del secondo ciclo di monitoraggio delle diossine. I precedenti risultati, resi noti dai tecnici del Dipartimento, lo scorso martedì, hanno mostrato valori di concentrazione nella norma e che lascia ben sperare per i risultati attesi entro domani. Ma intanto la Valle del Sabato continua ad essere sommersa dai fumi a causa degli abbruciamenti. Questa era la situazione ieri mattina. Sulla pagina Facebook Salviamo la Valle del Sabato sono stati postati due video che rendono perfettamente l'idea di ciò che accade a causa dei rugri agricoli che vengono alimentati nelle campagne per far pulizia sui terreni. Dopo una breve tregua, complice anche il maltempo dei giorni scorsi, nelle campagne sono ripresi gli abbruciamenti e le polveri sottili tornano a rendere l'aria asfissiante. Martedì sera quasi tutte le centraline cittadine registravano valori di PM10 ben superiori ai 50 microgrammi per metro cubo. Arione Ferrovie e Contrada Scofretta superati i 100 mg per metro cubo. Aria cattiva in molti punti della Valle del Sabato, Montoro e Valle dell'Irno, una situazione provocata dai rughi agricoli rispetto ai quali tanti comuni fanno finta di non vedere. Se il capoluogo ha imposto il divieto di abbruciamento per tutta la giornata e le amministrazioni limitrofi alla città non fanno nulla, anche Avellino subisce le conseguenze dei rughi agricoli. Gli unici due comuni, oltre al capoluogo, che hanno adottato provvedimenti sono Forino, dove gli abbruciamenti sono consentiti il martedì, il giovedì e il sabato dalle 10 alle 15, e Capriglia, dove il sindaco Piccariello ha adottato un provvedimento simile. Gli altri comuni perché non fanno lo stesso? Grazie.